Non solo tunnel, ma anche parcheggio interrato di cinque piani, un auditorium, un'area di mille metri quadrati per i bambini e poi un'estesa zona pedonale. Ora che il progetto che rivoluzionerà il centro di Termoli non è più un mistero, in tanti hanno iniziato a farsi un'idea di come sarà la città del futuro. I timori e le paure esorte in questi mesi intorno a quello che Angelo Sbrocca ha preferito chiamare passante e non tunnel, proprio secondo il sindaco, ora possono finalmente rientrare nei loro comprensibili confini, avendo però ben chiaro, come sostenuto dall'amministrazione, che non si scaverà nessun buco sotto il borgo e che non ci sarà nessun pericolo per edifici storici o palazzi vicino all'opera. Tutto verrà fatto in sicurezza e qualsiasi intervento, come ha spiegato anche il geologo Nicola Tullo, verrà effettuato minimizzando i rischi. Intanto, proprio le indagini affidate al professionista abruzzese che ha fatto degli studi sul terreno con il georadar fino a due metri di profondità non hanno evidenziato criticità. Sono stati comunque stanziati 300.000 euro per verificare la possibile presenza di reperti archeologici. Tutto sarà fatto in collaborazione con la sovrintendenza e potranno essere valutati anche eventuali spostamenti del tracciato del tunnel. Un progetto che mira a cambiare anche la viabilità del centro, oltre che la vivibilità. Proprio in piazza Sant'Antonio sarà disponibile un servizio di bike sharing con biciclette dotate di pedalata assistita e un servizio di car sharing con auto elettriche che possono portare i turisti fino a basto. I lavori dovrebbero iniziare tra la fine e l'inizio del nuovo anno e durare circa tre anni. In mezzo c'è anche il possibile referendum che i comitati stanno portando avanti da quasi un anno, a cui l'amministrazione invece è contraria. Una consultazione che però non avrebbe il potere di fermare il progetto, tanto meno i lavori. E' stata creata una volontaria confusione, sono state dette cose non vere, è stato detto che il passante, il cosiddetto tunnel, sarebbe passato sotto il paese vecchio, che i lavori sarebbero durati dieci anni, cose dell'altro mondo. Bisogna tutto ricondurre a verità e quindi adesso è il momento di fare una comunicazione serrata e anche dei dibattiti, perché noi vogliamo dire, vogliamo presentare il progetto alla città e siccome i cittadini non sono degli stupidi, sono persone intelligenti e sicuramente apprezzeranno questo progetto, perché è un progetto che darà una nuova vitalità alla nostra città. Basta essere conservatori, basta che dire che tutto non va, sempre no e senza mai proporre delle soluzioni alternative. Io credo che la nostra è una proposta di riqualificazione urbanistica che va al di là della riqualificazione urbanistica e che porterà un rinnovamento socio-economico nella nostra città. Grazie.